Sì, grande, sexy Luciano! Sì, sì, sì! Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta col cuore, col cuore, e anche con un po' di palle, perché la partita era difficilissima. Ci sono state tre, quattro partite nella stessa partita. La Lazio ha praticamente sconquassato l'Inter per 60-65 minuti, poi noi siamo stati bravi a ritornare negli ultimi 20-25 minuti. Grandissimo il guizzo di Cardi sul rigore, ma il merito va dato a Eder per fatto col passaggio illuminante. Spero sia ad esempio per le prossime stagioni che devono giocare in due, ci devono essere due punti e non una sola. A meno che non hai centrocampisti che ti accompagnano sempre l'azione e noi non li abbiamo. Ci sono stati parecchi giocatori che sono stati sotto tono oggi, perché la Lazio ha giocato meglio, bisogna essere onesti, però abbiamo tirato fuori le palle, cazzo, le palle grosse così erano. Bellissimo, è stata una roba stratosferica, che nessuno mi venga più a parlare del 5 maggio 2002, perché bisogna parlare del 5, cioè del 5, del 20 maggio 2018. Sì, sì, sì. Grandissimi, grandissimi, grande inter, grandissimi, grandissimi tutti. Sto godendo come un riscio tibetano, cioè faccio meditazione e nel frattempo voto. Bellissimo, una roba stratosferica, una roba stratosferica. Finalmente torniamo in Champions, una roba importantissima per lui, perché potremmo avere nuovi introiti e magari riusciremo a fare una squadra degna di questa grande competizione, perché bisogna rinforzarsi molto per fare una bella figura in Champions e poi bisogna rinforzarsi non solo per fare bella figura in Europa, ma anche per tenere il passo in Italia, perché sempre gli 11 non possono reggere il confronto di giocare 50-60 partite all'anno. Quindi bisogna operare sul mercato. Bravi ragazzi per averci creduto. Bravi. Ringraziamo. Ringraziamo San Zenga che ci ha fatto il miracolo. Mi dispiace moltissimo che il suo piccolo crotone, anche se il piccolo grande crotone non è riuscito a salvarsi. Mi dispiace moltissimo e lo ringrazio di cuore, perché questa Champions è anche merito suo. Grandissimo Valterone, grande uomo ragno. Madonna mia, talmente l'attenzione che mi è scoppiata la testa, ci è venuto un mal di testa incredibile ad un certo punto, perché si è venuta fuori tutta la tensione e c'è ancora il mal di testa, perché è come dopo una sbronza, cazzo. Stai là che vorresti sollevare il tavolo a colpi di minchia, cioè una roba bellissima. Juvea era, raga, cioè ci vorrebbe solo, che chiedo, qualcosa di stratosferico per festeggiare. Non lo so, non lo sai mai come si può festeggiare, perché ogni festeggiamento sarebbe troppo poco. Il bello di essere tifosi dell'Inter è proprio questo, che la nostra squadra è pazza, c'è in grado di toccare il fondo, ma è quando in penna è in grado di toccare i cieli che nessuna squadra in Italia riesce nemmeno a sognare. E io sono orgoglioso di tifare questi colori. Ora mi vedete addosso la maglia di Deadpool, perché io oltre ad essere tifoso di calcio sono anche tifosissimo e ultra fan di supereroi Marvel e oggi ci voleva un'impresa da supereroi e noi ce l'abbiamo fatta. Grandi ragazzi, grandi ragazzi. ragazzi. Detto questo, vado a sbronzarmi, no bugia, ma vado a festeggiare. Un saluto e un ringraziamento a tutti per aver visto i video fino a qui. Se anche tu stai godendo, bombardo e tasto mi piace. Grandissimi ragazzi, vi abbraccerei tutti. Belli che siete. Forza inter nella gioia del dolore all'inter eterno amore.